allora siete troppo curiose di sapere cosa pensa sergio di questo nuovo taglio niente si è arrabbiato ha preso il volo e se ne è tornato a roma che abbiamo litigato tutto il pomeriggio per farsi sto taglio alla fine l'ho convinto ma non si è piaciuto accenati mi ha abbandonato scherzetto ovviamente ma come può andarsene vedeva l'ora di venire e non vedevo l'ora che arrivasse ovviamente comunque ora ve lo dirà lui cosa ne pensa di questo nuovo taglio ma sei contento ti piace mi vuole dare soddisfazione ma in realtà è contentissimo e felicissimo ho vinto io ma avevate dubbi domani tuta rosa prossimo step domani ve lo farò vedere con la tuta rosa promesso il capello che abbiamo fatto questa rosa poi capiamo insieme qual è il prossimo Greta sta benissimo i capelli così ciao